Diaspore, cosa cerchiamo altrove? è il titolo dell'evento culturale pensato dal gruppo Generact dell'ambito giovani dell'associazione Comunità sulla strada di Emmaus. Il tema dell'evento parte da una riflessione nata dal confronto in gruppo sul tema della necessità costrizione di lasciare la propria città per formarsi o lavorare fuori. Si è pensato di estendere il confronto a tutta la città di Foggia in un linguaggio vicino ad altri giovani, l'arte e la cultura. Si è partiti dall'analisi etimologica di un termine che ha riassunto appieno la situazione della popolazione giovanili, la diaspora, in generale dispersione specialmente di popoli che costretti ad abbandonare le loro sedi di origine si disseminano in varie parti nel mondo. Il popolo in questione è quello dei giovani, i giovani italiani, i giovani del mezzogiorno ma anche i giovani di Foggia spesso costretti ad andare via per mancanza di lavoro, di opportunità ma anche di spazi in cui esprimersi. Nutrito il programma della giornata a partire della mostra collettiva Casa Altrove, Not Good at Goodbyes, mostra fotografica di Serafambri, Niente di personale, la mostra fotografica di Claudia Matruda e Skating Fogg, il documentario di Sergio Grillo. Non sono mancati i momenti di confronto con il dibattito Cosa cerchiamo altrove guidato da Sasi Spinelli. E poi live con Splint, Rolfi, Jedem, Giargo e altri momenti culturali all'insegnare la voglia di riscatto di una generazione che non vuole rassegnarsi a vivere in un contesto e in una città senza futuro.